è nato come gioco questo e sai che avrei voluto fare un disco di cover poi per vari motivi facciamo lo facciamo dicono ma cosa facciamo figurati poi gli ho sparato alcuni titoli impossibili questi titoli sono nati spontaneamente vengo da una situazione curiosa che è la città di bologna all'anno 67 fino al 2000 quasi tutte le sere ci troviamo con i bici diversi con la chitarra diversi che cantavano ci fermiamo lì come dischi per un materiale altri 29 dischi con tutte le canzoni che avevo cantato in questi anni è stato accolto molto bene questo mi ha fatto un grande piacere e mi ha sorpreso d'altra parte però che questa cosa per questo